Contrastare l'odio e la violenza, soprattutto quella contro le donne, a partire dal linguaggio attraverso una comunicazione più rispettosa. E questo è il tema sviluppato nel corso del convegno, comunicare contatto ospitato presso il Teatro Lembo di Canose di Puglia. Moderato dal giornalista di Telesveva Roberto Straniero, l'incontro ha visto la partecipazione della presidente del Centro Antiviolenza Riscoprirsi di Andria, Patrizia Lomuscio, e della giornalista e media attivis femminista Monica Lanfranco, protagoniste di un momento di approfondimento sulle tecniche e gli strumenti pratici utili a migliorare la comunicazione interpersonale e prevenire la violenza. Un evento organizzato dall'ambito territoriale Canosa Minervino Spinazzola in occasione della giornata internazionale del contrasto ai discorsi di odio. Parliamo appunto di stereotipi che appartengono a una cultura passata che devono essere assolutamente messi da parte perché c'è una innovazione nella comunicazione e nel linguaggio che va a salvaguardia della donna. Quindi etichettare determinate situazioni con un determinato linguaggio che faceva parte di un tempo oggi diventa ad odio il linguaggio di violenza. Quindi bisogna rinascere con un linguaggio nuovo. Una rivoluzione culturale che si è in grado di modificare una comunicazione spesso ancora legata a retaggi del passato rendendola più rispettosa ed empatica così da prevenire situazioni di conflitto, odio e violenza di genere. Molto spesso anche le espressioni verbali hanno una radice molto lontana, molto profonda e a volte fanno parte della nostra cultura per cui sono quelle più difficili da sradicare, da correggere e da modificare. Si cerca di fare naturalmente un percorso soprattutto con i più giovani perché sono coloro che devono imparare a relazionarsi in maniera diversa, relazionarsi alla pari anche attraverso la comunicazione verbale. Da una cosa... Grazie.